Sono partiti in questi giorni i lavori a Corso Garibaldi a Torre del Greco per la realizzazione del murales del riscatto. Un'iniziativa promossa dall'associazione Sviluppo Area Porto guidata da Carlo Esposito in collaborazione con molti imprenditori del territorio che hanno creduto in quest'idea finalizzata a rilanciare ancora di più la zona mare. L'opera che porta la firma dell'artista Letizia Mandragora rappresenterà una donna adornata dai gioielli di Torre del Greco, un simbolo della città e delle sue eccellenze nell'ottica di un riscatto a 360 gradi. Stiamo cercando di fare qualcosa di bello per Torre del Greco, visto che è una bellissima città cerchiamo di metterla maggiormente in mustra. È un'iniziativa dell'associazione e stiamo facendo un po' di street art, qualcosa che a Torre del Greco già c'è in piccola parte, però stiamo cercando di mettere in mustra questa zona che merita per la sua bellezza naturale ovviamente, per la sua storia. Non dimentichiamoci che qui c'era proprio l'altare in muratura, quindi voglio dire... Così detto altare di fabbrica. Fabbrica, esatto. Quindi voglio dire, sostanzialmente vogliamo mettere in risalto quest'area che merita. Rappresenterà ovviamente Torre del Greco, l'artista è Letizia Mandragora, che fa prevalentemente vulti. Devono risaltare l'artigianato torrese, quindi coralli, gammei, adesso poi vedremo man mano che va avanti l'opera come la svilupperà, però penso sia una bella cosa. È iniziata la settimana scorsa, però i lavori di preparazione sono stati abbastanza complessi e quindi questa settimana sarà determinante perché incomincieremo a vedere qualcosa. Già oggi si incominciano a vedere le tracce, diciamo, delle immagini che dovrà sviluppare e poi vedremo i colori. Quindi è un crescendo, giorno per giorno vediamo crescere questa opera. Ci sta la collaborazione di molti imprenditori che hanno creduto in questa idea e collaboreranno anche economicamente. Anzi colgo l'occasione per dire che questa non è un'opera finanziata da pubblico, ma è un'opera finanziata dai cittadini, quindi apriremo anche una raccolta fondi per completare, diciamo, quelli che sono i pagamenti che abbiamo sostenuto. Il titolo di questa opera? Allora, il murales è il murales del riscatto, riscatto culturale, educativo, di immagine, del luogo. Sostanzialmente per me è una donna, una bellissima donna, quindi una bellissima torre del greco, chiaramente con tutto quello che è gli adorni, diciamo, di gioelli, torrisi. È un murales del riscatto di questa zona che merita.